Musica Lo anticipavo in apertura, Palermo, i cantieri culturali della Zisa ospita in questi giorni Un'importante manifestazione, la sesta edizione del Sicilia Queer Festival Grazie per essere qui ai nostri ospiti Ve li presento subito, sono Andrea Inserillo che è il direttore artistico del Queer Festival Poi il regista Lionel Baie, buongiorno Grazie di essere qui perché a Lionel è dedicata una vasta retrospettiva delle sue opere Stasera tra l'altro si proietterà un nonso film Andrea cominciamo con il raccontare questa sesta edizione di un festival Che è diventato sempre più punto di riferimento culturale un po' per tutta Europa Festival delle arti visive perché ci sono tanti linguaggi che vengono offerti al pubblico Sì, noi pensiamo a un festival come una festa Una festa al cui centro sta il cinema evidentemente Però che è fatta anche di incontri con gli autori Soprattutto questa è la parte bella dei festival Di musica, di presentazioni di libri, di arti visive Quindi mostre internazionali e così via Naturalmente il centro sono le proiezioni cinematografiche Con due competizioni internazionali Un concorso di cortometraggi Un concorso di lungometraggi che è la novità di quest'anno E in più delle sezioni dedicate alla storia del cinema State vedendo penso Buster Keaton Sullo schermo Ci sarà un omaggio a Chantal Ackermann E poi ci sarà un'importante sezione di storia del cinema italiano Il 2 giugno proietteremo in occasione della festa della Repubblica 900 di Bernardo Bertolucci A 40 anni dall'uscita E a presentarlo con noi sarà un ospite importante Ne parleremo Adesso io volevo fare questa chiacchierata con Lionel Beyer Dicevamo il festival le dedica a una ampia retrospettiva Dei suoi lavori Tra l'altro uno degli ultimi suoi film La Verité Con la protagonista Carmen Maura Che è stata anche una delle muse di Pedro Almodovar Sì, era veramente incredibile di essere qui per presentare questo film Di avere l'onore di avere questa intervista nel catalogo del festival Che è veramente qualcosa di importante E lavorare con Carmen Maura era veramente qualcosa di semplice Perché è una persona molto gentile, così professionale E si piace molto di fare delle cose artificiali nelle film E abbiamo girato il film La Vanità unicamente in studio Dunque tutte le cose erano artificiali Era come un gioco per lei Abbiamo appena visto il trailer del film Il rapporto con Palermo e con la Sicilia Nel film? No, il suo rapporto con Palermo e con la Sicilia E sono molto impressionato per la città Perché sono venuti qui forse dieci anni fa E non mi ricordo bene della città Ma ho passato due giorni incredibili Perché è veramente una città essenzionale C'è qualcosa del ritmo della città Una città è come un film Se il film non è ben montato Come si dice? Montato 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 E c'è qualcosa un po' difficile Ma Palermo è una città ben montata Un buon film, Palermo Continuiamo a usare questo linguaggio cinematografico L'ospite d'eccezione di questo festival Sarà Dominique Sandà La stiamo vedendo Questa bellissima attrice Perché? Beh, Dominique Sandà Diciamo Incarna in qualche modo Anche uno spirito ribelle del cinema Che in un festival come il nostro Diciamo Rientra pienamente in quella che è la nostra missione È una grande interprete Di quello che il grande cinema è stato nel Novecento Cioè Un cinema d'autore Che era contemporaneamente un grande cinema popolare Per noi invitarla sarà un grande onore Il 2 giugno appunto ci sarà questa proiezione A ingresso libero per la cittadinanza Di Novecento Tutto di seguito Partiamo alle sei e mezza E continuiamo per questo capolavoro Della storia del cinema Ma diciamo Ci vantiamo anche Finalmente di sancire Un rapporto che è già nella storia Tra Dominique Sandà E l'Italia Perché Dominique Sandà Riceverà la cittadinanza onoraria A Palermo Quindi diventerà italiana Grazie a Sicilia Queer A tutti gli effetti Intanto ricordiamo che stasera Invece sarà proiettato Il film di Lionel Che non è la verità Stasera Stasera c'è Le Grand Zones d'Ouest Che è il film di Lionel Bayer Lionel Bayer è un regista Che lavora sulle forme Della commedia popolare Il film di stasera Ne è forse Diciamo È il maggior interprete Di questo filone Ma soprattutto Fa parte di una tetralogia Sull'Europa Bayer è un regista svizzero Che si interroga Su che cosa significa Essere europeo E per farlo Nel film di stasera Parte dal Portogallo Della rivoluzione E i garofani Del 74 Il film è un omaggio Al cinema italiano Degli anni 60 Nelle comedia popolari Anche dei film di Monticelli E quindi noi Invitiamo i nostri Telespettatori A venire a vedere il film Soprattutto a partecipare Al festival Appunto che È ospitato Dai cantieri culturali Della Zisia Che in questi giorni Diventano anche Punto di unione Di aggregazione E di confronto Grazie Grazie ai nostri ospiti Grazie di essere stati qui Con noi stamattina Noi proseguiamo